Settimana cruciale, la prossima tra lo sciopero generale di lunedì e il 15 ottobre l'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass in tutti i luoghi di lavoro. Due temi legati a doppio filo, visto che il primo è indetto proprio per protestare contro l'obbligo del certificato verde. In una città di Vicenza che sta tornando alla normalità con iniziative, locali pieni di gente e le mascherine sempre più in tasca e meno a coprire naso e bocca, abbiamo cercato di capire la posizione dei vicentini in merito e se il diritto di sciopero rimane intoccabile sulle motivazioni la posizione cambia. Non è il caso, il Green Pass ha un senso in questo momento e è servito a poter ripartire, a poter tenere aperto, a evitare un'ondata ampia, invece è stata un'ondata piccola quindi credo che non serva. Green Pass ci deve essere. Quindi anche scioperare non ha senso? No, no, il diritto di sciopero vale per tutti, per qualsiasi cosa secondo me, però ce lo devi avere altrimenti non vai più da nessuna parte. Tutelare se stessi e gli altri in questo momento è più importante che accanirsi su un ideale e quindi considerando anche i numeri e come stanno procedendo le cose, l'unico modo per tenere un'Italia che lavora unita, tenere aperte le botteghe, i negozi, i ristoranti e fare così. E quindi mi sembra un accanimento più che uno sciopero una protesta. Se c'è un diritto è giusto che questo diritto vada preso in considerazione. Io personalmente sono munito di Green Pass, sono d'accordo con il vaccino, però è sempre una cosa appunto personale secondo me. Legittimo scioperare, io ho una posizione assolutamente diversa, sono fuori del Green Pass, dal mio punto di vista andrebbe bene anche obbligatorio. Legittimo scioperare se uno ritiene che non sia d'accordo fino a quando lo si fa in maniera civile rispettando tutte le norme in termini di sicurezza e tutto.